Secondo alcuni non dovremmo farci notare molto da altre civiltà, perché potrebbero essere cattive anche in maniera involontaria, cosa ne pensi? Penso di sì, penso che se sono molto più evoluti di noi ci farebbero forse fare la fine che noi abbiamo fatto fare agli indiani d'America o agli aborigeni d'Australia, forse finiremmo in uno zoo extraterrestre.